E allora eccoci qui le nove in punto e nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento Skype il professor Giuliano Volpe, ordinario di archeologia dell'Università degli Studi di Bari, rettore dell'Università di Foggia dal 2008 al 2013 e dal 2014 al 2018, presidante del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del Ministro della Cultura. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno, mi fa molto piacere parlare di archeologia, di cultura, di patrimonio culturale con lei. Grazie professore, le chiedo magari nel frattempo di interrompere nel frattempo la condivisione dello schermo così nel frattempo ci possiamo vedere, poi magari la riprendiamo, altrimenti non la vedono anche i nostri telespettatori. Certo, eccomi. Eccoci qui. Parleremo con lì appunto di alcuni temi, di beni culturali, di paesaggio, di cultura. Partiamo sicuramente dal tema dell'archeologia perché, come possiamo vedere, è in uscita il secondo volume delle passeggiate archeologiche, 46 itinerari alla scoperta della Puglia per conoscere stili e storie della Puglia. Vediamo l'immagine. Professore, quanta cultura c'è in Puglia? Perché nasce questo secondo volume? Le chiedo a quel punto qual è l'itinerario che probabilmente l'ha colpita di più. Parto dall'ultima, dalle sue domande. È difficile dire qual è l'itinerario che mi ha più colpito perché la Puglia ne offre a decine ed è il motivo per cui anche su invito di tanti ho deciso di pubblicare un secondo volume. Dopo il primo che era stato pubblicato nel 2021 perché quello è stato un momento particolare, è stato il momento legato alla pandemia, all'impossibilità di viaggiare. Allora è venuta l'idea di proporre degli itinerari vicini perché spesso accade che anche i pugliesi non conoscano le tante importanti presenze storiche, archeologiche diffuse nel nostro territorio. E allora sono nate queste prime 20 proposte e poi molti mi hanno chiesto di poterne proporre altre e ne ho proposte altre 26 in questo secondo volume uscito da non molto. Per parlare dei territori di Padre Pio e del Gargano, del Gargano Sacro, certo una puntata a Monte Sant'Angelo o a Vieste, ho visto alcune immagini che sono andate nel frattempo, oppure a Siponto. E certo sono alcuni degli itinerari possibili, ma c'è Monte Saraceno, un posto meraviglioso anche dal punto di vista paesaggistico, anche dal punto di vista storico, archeologico. E poi in tutta la Daunia, ovviamente Erdonia, Ascoli Satriano, Lucera, Bovino, Foggia stessa con il sito preistorico di Arpi, con il sito di Arpi. Quindi ci sono tantissime possibilità. Ovviamente questi miei due libri parlano dell'intera Puglia, quindi da Vieste fino a Vaste nel profondo Salento e chiaramente anche una serie di città importanti a continuità di vita, perché i siti archeologici non sono solo quelli abbandonati, come Siponto o D'Erdonia. Ci sono anche una serie di città, anzi la maggior parte delle città della Puglia hanno una tradizione storica lunghissima, per cui Foggia che nasce nel Medioevo, ma Barletta che è una città che nasce nella tarda antichità in particolare, e poi Bari che invece ha una tradizione lunghissima, risalente fino all'età del bronzo, è mai interrotta. Ovviamente Brindisi, grande colonia latina, Taranto, l'unica colonia greca in Puglia, Lecce stessa. Insomma c'è una possibilità quasi infinita di percorsi archeologici che io suggerisco e che meritano di essere scoperti, scoperti dai visitatori. Io do delle suggestioni, do delle indicazioni, questi libri non sono vere e proprie guide nel senso tradizionale, sono una presentazione della vicenda storica di ognuno di questi siti abbandonati o a continuità di vita, di età antica, preistorica o antica, ma anche ci sono insediamenti medievali, ci sono anche insediamenti dell'età moderna, perché l'archeologia si occupa dell'intera vicenda dell'uomo, dalla sua comparsa più risalente nel tempo fino ad oggi. Le vorrei chiedere su questo tema, anche andando oltre la Puglia, a beneficio anche di chi ci segue in altre regioni d'Italia, quale è nella sua esperienza di archeologo, di studioso, soprattutto poi di ricercatore, il legame che probabilmente ha scoperto, ha indagato anche nel rapporto tra storia, religione dall'altro lato? Allora, è un legame fortissimo, è un legame fortissimo perché la religione è stata sempre una componente essenziale della vita dell'uomo e tutti questi siti sono sempre legati all'aspetto cultuale, nelle varie forme ovviamente. Faccio solo un esempio, guardi, perché è una ricerca che stiamo conducendo da alcuni anni e che mi sembra particolarmente significativa sotto questo profilo. Stiamo facendo scavi archeologici, l'università insieme, l'università di Bari e di Foggia, a Vieste, sull'isolotto di San Teofemia, dove è noto un santuario marittimo dedicato in età romana a Venere e Sosandra, cioè a Venere che salva i marinai. Venere è la divinità che nasce dal mare e la divinità che garantisce il mare calmo e quindi il mare più facilmente navigabile. E quindi ecco qui un'immagine proprio sotto al faro e questo stesso santuario in età tardo-antica, paleocristiana, diventa un santuario cristiano che dura a lungo nel tempo. In quel santuario c'è anche una famosa iscrizione, quella del doge Pietro Orseolo II, che si ferma a Vieste con la sua flotta di cento navi per andare a liberare Bari che era occupata dai saraceni. E questo accade nell'anno 1002. Dopo il successo della missione Orseolo aggiunge ancora a quella iscrizione monumentale alcune righe per ringraziare la divinità della protezione ricevuta. E questo culto resta a lungo. Quindi, come vede, a volte il culto cristiano si è aggiunto, si è sostituito a quello pagano, ma c'è una continuità di culto appunto, in questo caso legato al viaggio per mare. Ma poi ci sono tutti i culti legati all'acqua salvifica e lo stesso culto di San Michele sul Gargano nasce in questa maniera. E poi faccio un esempio importante di una scoperta recente in tutt'altra zona. Siamo a Castro, nel Salento, dove gli scavi condotti da Francesco D'Andrea dell'Università del Salento hanno portato alla scoperta di un grande tempio di Atena. Ora, Atena, Minerva, è poi legata profondamente al rapporto con Troia e quindi alla vicenda della distruzione di Troia e della nascita della civiltà nel nostro territorio. Perché è proprio legato a questo, al culto di Atena Ilias, Atena Iliaca, Atena di Troia appunto, perché sappiamo che nel nostro territorio è Diomei del grande eroe troiano che viene a fondare città e viene a portare la cultura appunto greca in Puglia dove peraltro ci sono civiltà indigene molto forti come quella dei Dauni, quella dei Pevicezzi e dei Meossapi. Insomma, in queste vicende tra culto, tra mito e religione si sviluppa tutta la storia del nostro territorio e non solo. E tutte le stesse città sono sempre legate a un fatto cultuale perché il culto, la religione è un elemento essenziale della vita dell'uomo. Professore, le volevo chiedere anche, sono notizie ecco dell'attualità, se ne hai parlato un po' su tutti i giornali negli ultimi giorni. Si parla di valorizzazione del patrimonio culturale, di musei, siamo di fronte ai ponti diciamo di quest'anno, al punto del 25 aprile, quello del primo maggio, poi arriveranno quelli del 2 giugno e così di seguito. C'è stata una lettera del Ministro della Cultura San Giuliano ai direttori generali del Ministro della Cultura, c'è stata anche questa provocazione dell'invito a un pranzo di Ferragosso, venivano richiamati i direttori generali poiché assenti dal Ministro della Cultura durante questi giorni. Quale pensa sia effettivamente il ruolo oggi di un dirigente del Ministro della Cultura piuttosto che di un direttore di un museo? Qual è la direzione nel quale si sta andando per la valorizzazione effettivamente del nostro patrimonio culturale, anche a livello di governance? Mi fa una domanda un po' problematica perché io onestamente non sto molto condividendo le strategie, o meglio, non vedo una strategia per la verità dell'attuale Ministro San Giuliano. Questo richiamo ai direttori generali mi sa tanto di propaganda. Io conosco molti direttori di museo e so che i direttori dei musei sono presenti nei musei nei momenti significativi. Ora, mi chiedo quale sia il rapporto tra un direttore generale che si occupa per esempio di archivi o si occupa di educazione e ricerca o si occupa della digital library. Onestamente la necessità di essere a ferragosto al Ministero non mi sembra fondamentale. Lì dove certo i direttori dei luoghi in cui i visitatori si recano anche nei giorni di festa è giusto che ci siano. Quindi mi sembra che il Ministro conosca poco il Ministero, devo dire, perché non mi sembra che questo sia il problema. D'altra parte, quando si parla di assenteismo, l'abbiamo visto qualche giorno fa al Parlamento, quindi onestamente credo che i dirigenti e il personale del Ministero, che peraltro è un personale molto sottodimensionato, c'è un bisogno di assunzioni e di personale del Ministero della cultura che ormai si è andato svuotando anche per effetto dei pensionamenti, di assunzioni fatte tanti anni fa in massa. Da anni propongo al Ministero delle assunzioni fatte regolarmente tutti gli anni e non più i grandi mega concorsi che immettono migliaia di persone che poi fuoriescono tutte insieme. Quindi c'è un problema di trasmissione delle competenze. Per il resto mi sembra più grave, più che questo richiamo, ripeto, molto propagandistico ai direttori generali, mi sembra più grave che un altro ministro, quello del turismo, peraltro, come saprà fino a qualche anno fa, il turismo era nel Ministro della cultura e secondo me era giusto che fosse così perché il turismo italiano non può che essere caratterizzato in senso culturale e il Ministero del Turismo ha lanciato una, peraltro costosa propaganda, pubblicità del turismo in Italia utilizzando un'immagine, quella della Venere di botticelli trasformata in una specie di influencer che mangia la pizza o si fa un selfie, quindi anche francamente con un uso assai poco colto di uno dei simboli del patrimonio culturale italiano. Ma soprattutto la cosa che mi sembra grave è che continua a proporre come mete turistiche mete che non hanno alcun bisogno di essere promosse, cioè promuovere il nuovo turismo a Venezia, a Roma al Colosseo o per dire in Puglia a Polignano che sono già mete sovraffollate, lì dove la strategia della promozione turistica dovrebbe andare nel senso che io modestamente ho proposto nei miei due libri, e cioè verso siti meno noti, cioè noi abbiamo bisogno di un turismo che si distribuisca in tutto il territorio nazionale alla scoperta delle mille possibili mete del turismo culturale, invece di continuare a proporre cose note, stranote e continuare a proporre stereotipi come pizza e mandolino. Ecco, insomma, franquamente non mi sembra una maniera, diciamo, colta e quindi anche efficace di promuovere una delle grandi risorse del nostro paese che è la cultura e il patrimonio culturale. Tra l'altro su questa critica a questa Venere di Botticelli ha in qualche modo condiviso anche quello che è stato anche il giudizio di un componente del governo, del sottosegretario Sgarbi del Ministro della Cultura che ha utilizzato anche il termine influencer per questa Venere. Sì, certo, Sgarbi, se si occupasse meno di fare visite notturne ai musei e più della tutela del patrimonio, forse potrebbe essere più utile. Perfetto, professore, io la volevo ringraziare per questa sua preziosa disponibilità e testimonianza e abbiamo anche fatto vedere prima un altro suo libro a quale poi sono anche molto particolarmente affezionato, patrimonio culturale, un libro del 2015 di qualche anno fa, ma sempre attuale, un manifesto per i beni culturali e il paesaggio, l'ecta edizioni che consigliamo comunque anche ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Grazie, professore, per essere stato con noi. Grazie, arrivederci e buone visite ai siti culturali della Puglia durante questo lungo ponte. E buon primo ponte. Grazie, era il professor Giuliano Volpe, ordinario di archeologia dell'Università di Bari, dal 2008 al 2013 rettore dell'Università di Foggia, dal 2014 al 2018 presidente del Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici del Ministero della Cultura. Ci fermiamo qualche secondo per un break pubblicitario e poi torniamo qui con gli aggiornamenti e gli altri ospiti di questa puntata.